Musica Serie di ultimi preparativi per Città di Castello e Gubbio in vista del derby di sabato al Bernicchi con clima rilassato Tanto turnovere in vista per ambedue le compagini, Serie B Perugia, spunta Bucchi per il dopo Bisoli Promozione, immagini e parole dei protagonisti in casa Fontanelle Branca promossa in eccellenza per la prima volta nella sua storia Braccio di ferro, ottima partecipazione a Gubbio per il campionato Centro Italia Buonasera, ben trovati con l'informazione sportiva targata TRG, Serie di in apertura con Gubbio e Città di Castello Lavoro in vista del derby di sabato al Bernicchi con fischio d'inizio previsto alle 15.30 Una partita che entrambe le squadre affronteranno senza pressioni con il Gubbio già promosso in Lega Pro E il Città di Castello certo della permanenza nella categoria Allenamento al Barbetti sotto la pioggia per la truppa Eugubina Come potete vedere dalle immagini curate da Angelo Casagrande Possibile che gli allenatori concedano spazio a chi sinora ha giocato di meno Nei rosso-blu pronti per partire dal primo minuto Schiaroli e Petti in difesa Cuccia e uno tra Barbacci o Tibolla a centrocampo oltre a Sciamane e Crocetti in attacco Nel Città di Castello spazio a Zanchi in difesa L'occhio a centrocampo e l'ex Luparini in attacco Designato anche l'arbitro di Città di Castello Gubbio Che sarà diretta da Michele Somma di Castellammare di Stabia Ricordiamo che per chiunque volesse assistere al derby Sarà possibile acquistare i biglietti solo al Bernicchi di Città di Castello Al prezzo unico di 12 euro I ragazzi fino a 14 anni non compiuti possono invece usufruire dell'ingresso gratuito E proprio per seguire in tempo reale il derby Città di Castello Gubbio L'appuntamento con Diretta Sport su RGMI 3D e sul canale 604 del Digitale Terrestre Per questa settimana è fissato a sabato 30 aprile alle 15.30 Domani sera intanto andrà in onda una puntata speciale del Rosso e il Blu Proprio sul trionfo della compagine d'immagine del campionato di Serie D L'appuntamento è per domani sera alle 21.30 su TRG Canale 11 Puntata che sarà replicata ed arricchita dalle immagini del derby Domenica sera alle 20.30 su TRG al posto di fuorigioco Che tornerà domenica 8 maggio per l'ultima puntata stagionale Andiamo a Foligno con la seduta pomeridiana per il Città di Foligno Che domenica a Viareggio proverà a vincere per alimentare le ultime speranze In ottica playoff verso il recupero il centrale difensivo Gennari Con fa per due comunque in preallarme Verso il forfè invece l'attaccante Balistreri toccato duro al polpaccio nel derby Con il Gubbio per questo in bimbo dovrebbe passare al 4-3-3 in terra Toscana Con tridente d'attacco formato da Napolano e Cavitolo Sulle corsie esterne a sostegno di Di Paola Intanto per quanto riguarda la questione societaria Resta sempre in piedi una possibile fusione con il Cannara Ma prende corpo anche l'idea dell'azionariato popolare Con i tifosi folignati pronti a mettere in atto Un'associazione denominata Foligno ti amo Proprio per aiutare la causa del falco in vista della prossima stagione Allenamento pomeridiano per il Perugia Che sabato riceverà al Curi il Bari Nella 39esima giornata di B Con l'unico obiettivo di vincere Per alimentare le residue e speranze playoff Oltre ai lungodegenti alla Santa Dea Zapata Bisoli non potrà contare su Del Prete Uscito anzitempo a Novara per un problema muscolare E Bianchi che complice la solita caviglia dolorante Dovrà rimanere a riposo per 10 giorni Prima di effettuare nuovi esami In difesa spazio a Milos e Spinazzola Sulle corsie esterne Mediana Percic sostituirà lo squalificato Rizzo Con la conferma di Aguirre e Ardemani come duo d'attacco Intanto nel caso in cui Bisoli non venisse confermato per la prossima stagione La principale candidatura per la panchina Sembra corrispondere al profilo di Christian Bucchi Due anni fa alla guida del Gubbio Ed attuale tecnico della Maceratese Terza in classifica nel girone B di Lega Pro E scendiamo ora in promozione per celebrare il trionfo del Fontanelle Branca Capace in un anno di compiere il doppio salto dalla prima categoria all'eccellenza Che storia! Appena 12 mesi dopo l'ascesa in promozione della prima categoria Tra guardo che sembrava già di assoluto prestigio Il Fontanelle Branca conquista il pass per l'eccellenza Umbra Impattando 0-0 San Giustino e chiudendo così un punt avanti a Lama Il tutto in una stagione da libro delle fiabe Dove la compagine di mister Isarelli ha dimostrato di essere più costante e continua delle contendenti Con 26 giornate vissute da capolista sulle 30 totali Festa grande per il popolo Branca Iolo Che anche nell'ultima recita in Alto Tevere Ha seguito la squadra con due pullman ed una carovana di automobili Prima di cominciare a pianificare un futuro Che vedrà disegnati i colori bianco e blu Nel massimo campionato regionale Con dedica speciale all'indimenticato tifoso amico Edoardo Cipiciani Se mi hai permesso posso dire una cosa Quando ho cominciato questa avventura quest'estate con questi ragazzi Io ero convinto che loro sarebbero stati i migliori uomini Per poter affrontare un'avventura del genere Non ero convinto di me A questo punto arrivati in questa situazione Posso dire tranquillamente che forse anch'io ero l'uomo giusto per loro E questo è una gran bella cosa per entrambi veramente Noi siamo venuti giù qua Sapendo di incontrare comunque una squadra forte E che non ci avrebbe regalato niente E bene, bene Forza! È una gioia immensa Ci tengo un attimo prima di tutto a precisare la dedica Un particolare a Edo Un nostro caro amico che purtroppo stasettimana ci ha lasciati Una grande vittoria per tutta la comunità di Branca All'inizio della stagione era un po' Io stesso parlavo di salvezza Ce l'abbiamo il filmato, ce l'abbiamo Salvezza la sera della presentazione E invece abbiamo raggiunto questo traguardo strepitoso Felice per tutti E complimenti anche ad Andrea Che è stato l'artefice di questa vittoria Guarda, vorrei fare un ringraziamento a mio padre veramente Che in momento delle difficoltà del campionato dove Marcello con il lavoro non riusciva Anima e corpo si è gettato nel Santa Barbara E lo dedico a lui questa vittoria veramente Ti ringrazio per avermi Perché alla fine il grazie ha tanti Però mi sento di dirla a lui perché veramente Ben ricordo Siamo partiti con altre ambizioni Non conoscendo la categoria e le squadre Come giustamente Però sapevamo di avere ragazzi validi Che hanno calcato anche campi importanti E passiamo ora a parlare di volley di B1 femminile Con l'obiettivo di onorare il campionato La TUM Perugia scendere in campo sabato 30 aprile Per l'ultima gara di una stagione Che l'ha vista ancora una volta protagonista Nelle posizioni di vertice Fino alla settimana scorsa Le magliette nere sono rimaste in corsa per l'obiettivo playoff Svanita questa possibilità Adesso le atlete perugine Sempre quarte in graduatoria Devono scendere in campo sabato alle 18 Per disputare il derby Umbro In casa con le Alto Tiberine Che nel caso in cui con gli esseri due vittorie piene Potrebbero sorpassare le cugine in graduatoria Visto che la TUM nell'ultima giornata Serverà un turno di riposo E parliamo ora di motori Esordio da sogno per Lorenzo Cipicciani Sul circuito di Vallelunga Il pilota Eugubino centra il primo successo in carriera Nel Bridgestone Champions Challenge Guidando in testa praticamente dall'inizio Alla fine della gara 2 Della round d'apertura del campionato Dopo il terzo posto di gara 1 Cipicciani ha messo alle sue spalle Il quotato Mauro Carzaniga Che ha tentato il tutto per tutto All'ultimo giro Riuscendo a mettergli le ruote davanti Solo per qualche curva Cipicciani adesso sogna davvero Di poter ambire un ruolo Di assoluto protagonista per il campionato Dopo il quarto posto finale Raggiunto lo scorso anno Parliamo ora di Judo Sempre sugli scudi Il Judo Kodokan Gubbio Che continua ad ottenere con i suoi atleti Importanti risultati a livello nazionale Gli esordienti della società Eugubina Hanno di fatti partecipato a Reggio Emilia Alla finale del 14esimo campionato nazionale CSI Sono riusciti a disputare 5 finali Ad ottenere 3 medaglie Argento per Leonardo Bellucci Bronzi per Simone e Miriam Paoletti Gli juniors invece erano presenti a Catania Al campionato italiano di categoria Luca Bianchini, Marsilio Fiorucci Vittorio Migliarini Andrea Berrettoni e Paolo Usai Hanno partecipato a questa importante competizione E anche se non sono riusciti ad ottenere piazzamenti Erano comunque presenti all'evento Dopo aver superato brillantemente la fase regionale E chiudiamo parlando di Braccio di Ferro Perché proprio a Gubbio Nei giorni scorsi Si è svolto il campionato italiano Centro Italia Il punto sull'evento nel servizio Si è svolto per il secondo anno consecutivo Sotto i 5 colli Il campionato Centro Italia di Braccio di Ferro Giunto alla 17esima edizione Ed organizzato dal team Braccio di Ferro Marche Del presidente Nonché veterano assoluto della disciplina Renato Consalini Anche se il vero Deus ex machina dell'evento E' stato Leo Gubbino Mirko Pierotti Atleta di carattura europea E vicepresidente del team marchigiano Location è stato il ristorante Al Casellino E all'evento hanno partecipato Una cinquantina di atleti Provenienti da ogni parte della penisola Suddivisi seconda esperienza E peso in cinque categorie Juniores Esordienti Senior Open E femminile Al torneo hanno preso parte Anche atleti e gubini Della scuola di Braccio di Ferro Della palestra Bodyline Center Tra questi da segnalare La vittoria nella categoria femminile Di Chiara Acciaio Nel derby con Cristina Totteri Quest'ultima investe Anche di arbitro federale Internazionale Pietro Barboni Ha conquistato il primo posto Nella categoria esordiente Fino a 95 kg Classificandosi anche quinto assoluto Mirko Ramacci E' stato eliminato Al terzo turno Nella categoria senior 85 kg Mentre proprio Mirko Pierotti Nella categoria senior 75 kg Braccio sinistro Si è classificato secondo Una manifestazione Di notevole impatto Per una disciplina Ancora poco praticata Ma in grado all'ascesa Alimentata da passione Ed edizione Di atleti ed organizzatori Cinque anni che la facciamo In queste zone Perché l'abbiamo fatta Per tre anni A Sansepolcro E la media Era sempre intorno ai 50 55 atleti Comunque anche oggi Abbiamo raggiunto i 50 atleti Possiamo essere soddisfatti Che mix è questa disciplina? E' un mix di forza E come 50% forza E 50% tecnica E velocità Perché uno può essere fortissimo Un po' più di un avversario Ma se l'avversario è molto tecnico E veloce Prevale sull'avversario più forte E poi conta per questo sport E conta tanto la passione Perché è uno sport minore E non ci sono soldi Dobbiamo Qualsiasi trasferta Perlomeno parlo personale A livello mondiale Ci dobbiamo spesare Moltissimo impegno ci vuole Cioè tanta passione Soprattutto Perché E tanto Se non c'è la passione Questo qui è uno sport Che non si può fare Ci sono tanti ragazzi Che vengono a far parte Del nostro team Due o tre volte Vede che Arrivano magari a vincere Categorie esordienti Poi Finisce lì Perché dice Ho raggiunto Invece no Perché si va sempre a crescere E poi a livello Anche europeo A livello mondiale E' il secondo anno Che lo facciamo Purtroppo quest'anno Confronto l'anno scorso Ho avuto un po' di problemi Logistici Dove farlo Però dai Sono abbastanza soddisfatto Noi ci alleniamo Tutti i giovedì sera Però sulla bodyline E chiunque volesse provare C'è completamente aperto a tutti Ed era questo L'ultimo servizio Del nostro TG Sport di oggi Grazie per la vostra attenzione Buona serata Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione Grazie.